Il comandante del Vincenzo e il direttore del Gionale. Sono i primi ad arrivare, puoi immaginare quello che stava, era uno strasso. E' il nostro lavoro. E' il nostro lavoro. Grazie per aver parlato. Sì. E lui era il dottore. E' stato tutto per il lavoro. Grazie per la vostra domanda. Noi abbiamo avuto una rete dei sottosti, spero che ovviamente abbiamo avuto una rete di sottosti, che hanno portato i due soccorritori con cui ha parlato. Poi questo è arrivato il patrimonio d'asporto sanitario. Grazie per quello che avete fatto. Grazie. Grazie anche ai volontari.